Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Shadow Tactics Blades of the Shogun. Allora ci siamo avvicinati moltissimo a poter prendere il travestimento con cui spero vivamente di riuscire a sistemare un po' la questione di sbloccare questo Unpass. Per carità non è andata così male finora, non diciamo sciocchezze, è andata piuttosto bene in fondo, però temo che il peggio debba ancora arrivare e che siamo lì lì. Adesso mi piacerebbe tanto sapere come faccio però a venire a capo di questa situazione qua. Forse una mezza idea ce l'ho, ma non è detto. Proviamo Facciamo così Ehi, che non le vedi le orme? Dannazione Non sono andati fino a qua Non so cosa ho fatto. Non lo so, non lo so, non lo so. Vi giuro ragazzi che ho agito proprio per puro istinto. Ho ucciso tutti e non so nemmeno come ho fatto. Ok, Aiko Direi che è il tuo momento Vieni qua Yuki alla fine tu non sei servita Ok, perfetto Travestiti, grazie E adesso tutto sarà molto più semplice Forse Prendiamo questi civili in bella vista E liberiamocene Prendiamo anche quest'altro, va, che mi pare un po' eccessivo lasciarlo proprio qui Perfetto Beh, a sto punto anche Takuma Vieni qui Ma il carro non gliene frega niente se io passo Molto bene Adesso, Aiko È il tuo momento Vedi un po' di distrarre un po' di gente Eh Però qui come cavolo si fa? Ci sono dei samurai qui? Sembrerebbe di no Ma cosa? Ah, sì, ecco, lì il samurai c'era e come invece? Nella Ah Nella Nel gruppo che fa la ronda Mannaggia la miseria Brutta notizia È proprio uno Nel gruppo di testa Ma questi si guardano proprio, eh L'uno con l'altro Pessima situazione Aspetta un attimo Ok, effettivamente è una buona cosa questa Forse so come Come venirne un po' a capo Hayato e Yuki Qui Salvare C'è questo Dannatissimo civile Vediamo che giro fa Eh Non fa un giro chissà che, però Dannazione Va bene Devo evitare anche il civile Ho capito Per carità Yuki, sali anche tu, va Mi sa che C'è qualcosa che non va Questo vede le orme Le vedrà Ah Ma non gliene importa niente Ottimo Adesso io sono in questa Posizione assolutamente precaria Proviamo Malissimo 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 Bene Dobbiamo ripartire No, 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 no Cristo santo Ma perché passa di qua Ok Va bene Attendiamo un attimo Che vadano via le orme Salviamo Viu 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 No, sbagliato, sbagliato. Sono un idiota. Dannazione. Ma la strada era giusta. La strada è giusta. Posso inventarmi questa cosa. Ma perché prima non mi aveva visto? Prima non mi aveva visto. Ve ne siete accorti anche voi? Mi ho visto solo dopo. Non va bene. Beh, voglio provare a fare questa cosa. No. L'avrei dovuto fare prima. E potevo. E potevo. Quindi, arriva il carro, uccido tutti e tre e li porto via. Ok, va bene. Proviamoci. Ci vuole solo un po' di pazienza. E tra l'altro non serve uccidere tutti e tre in fila. Questo lo posso uccidere anche prima. Ritorno un po' su Yuki e uso un po'... Dannazione. Dannazione. E non devo passare là. Devo tornare indietro, saltare il punto in cui vede tutto. E se faccio tutto molto in fretta, la spunto. Ritorno indietro. Passati qua. Ah, questo lo vede, invece. No, non va bene. Non va bene. Purtroppo non va bene. Riproviamo un secondo in quest'altra maniera, ma non penso onestamente che... No, salvare? Non posso salvare. Eh, sì, ma temevo che mi sentisse. Allora, fammi capire una cosa. Ci sono samurai qui? C'è solo la ronda, giusto? E Aiko potrebbe tranquillamente evitarla. Se poco poco riesci a... Ah, no. No, perché ce ne sono ben due. Ah, no, aspetta, aspetta. Ok, ok. Va bene, va bene. Facciamolo. Perché è quello, è solo quello, quello che lo vede. Ehi qua. Ehi, che stai facendo? Ha funzionato. Eh, non ha funzionato un cavolo, invece, dannazione. Non sono stato abbastanza veloce. Ecco, facciamo che ti fermi un secondo qua, che prima hai fatto un giro che non... che veramente non mi sono capacitato di come tu abbia fatto. E io sono imbecille, ovviamente, perché quel punto è ancora sotto l'occhio di quegli altri. di nuovo. Coraggio, coraggio, dai. Che da qui possiamo spuntarla. Dai, dai, coraggio. Ehi, coraggio, ehi, coraggio, stai qua. Ehi, coraggio, stai qua. Ehi, coraggio, stai qua. Forse devo aspettare esattamente... Ok, forse... Forse ci siamo. Aspetta, fammi ricaricare che non devo sprecare neanche un secondo. Perché si deve muovere il carro. Ok, so cosa fare. Forse. Ok, uccidi lui. Adesso, fammi vedere un po'. Ora. Ora. No, 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 no. Via, 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 via. No, l'ha visto, l'ha visto, l'ha visto, l'ha visto, l'ha visto. Eh, buongiorno. Troppo tardi. Devo spegnere la luce. Mi rendete conto di quanto è difficile questo, vero, ragazzi? Secondo. Signa. Devo spegnere la luce subito dopo. Veloce, veloce, spegnila. Ok. Oddio, aspetta, forse sono... Incredibilmente fortunato. No, non sono incredibilmente fortunato. Questa cosa non può funzionare. Perché come va via il carro, succede un macello. Io ci riprovo un'ultima volta, tanto per... Forse se sposto i cadaveri con una velocità spropositata... Riesco a venirne a capo, ma... Ne dubito fortemente. Questa cosa non può funzionare. Questa è, se ci stavorevo un'ervo. Cento deiotheri che faccio nel corso. Questa è… Questa è il contenito? Questa è il respeto, parla... Questa è la chiave. Questa è la chiave. Questa è un'altra, non ho con po, ma perché non ho anche. tenere la luce prendere questo cadavere no 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 non va bene no è impossibile devo inventarmi un'altra non così non è possibile no però in effetti porca miseria cioè sembra fatta apposta il carro che si mette qui così quindi davvero mi pare difficile credere che questa cosa non sia per questo motivo quindi dannazione ci voglio riprovare ok perché la vista di questo qui è esso no chi è che ha visto orca miseria ma perché 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 non era distratto questo per quale ragione non era distratto ah perché anche lui ha visto giustamente la la luce spenta vero dannazione è tutta tutta la puntata che sto cercando di provare a fare questo e sto fallendo no 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 è praticamente impossibile non non ha senso non ha senso perché al primo richiamo si muovono tutti e due è impossibile e niente ragazzi me ne devo inventare un'altra ci ho provato fino in fondo ma così non se ne esce proprio ma proprio per niente se ne esce ma si vedono l'uno con l'altro questi ok forse ok forse voglio provare a vedere una cosa se io mi fermo qua lui riesce a colpire sì ok ok potrei provare potrei provare potrei provare concediamoci ancora un tentativo ragazzi lo so che lo so che è andata avanti un sacco di tempo questa cosa ma davvero voglio provarci fino in fondo eh un talto sì questo salvataggio qua oh porca miseria maledetta dovevo troppo piazzare lui prima no ho fatto una stupidaggine dannazione piccata va vai No 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 Sono un idiota Sono un idiota Maledetto Però Questa cosa si può fare E da dove è uscito fuori Questo mo Ma ecco Da dove C'è sempre stato Quindi no Io devo sparare A quell'altro Non bene Madonna che casino Questa è una delle cose Più difficili Di tutta la serie Probabilmente Che cosa è successo Perché Dai forza Forza Coraggio No lo so ragazzi Io Non so come risolverla qui Ci ho provato fino adesso Ma adesso basta Basta davvero Salviamo così E finiamola qui Perché Non se ne esce Veramente Takuma Mettiti qui Aiko Mettiti qui Perché poi arriva pure la ronda Col samurai E bella 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 non è Va bene Ragazzi Noi tristemente Ci salutiamo qui Perché Non so Non so In che altro modo Venirne fuori Ora Tutto ciò Richiederà Un ragionamento Più preciso D'accordo Bene Ragazzi Che dire Per ora è tutto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatta E mettete un bel mi piace A questo video Se vi è piaciuto E se vi sta piacendo La serie D'accordo A presto